Anche quest'anno la GD Paddle Tournament di Guerino Donato, in collaborazione con l'associazione Susan Come in Italia per la lotta ai tumori al seno, nella persona della dottoressa Francesca Graziano, hanno dato vita al torneo più pink dell'anno. Le 28 coppie partecipanti al torneo, alcune anche da fuori Lamezia, e il numeroso pubblico presente, con a seguito le proprie famiglie, hanno riempito il circolo di sport, allegria, divertimento e sana competizione. L'evento si è svolto giorno 1 e 2 giugno, presso il circolo Sporting Club Lamezia. Il torneo Gold si è concluso con la vittoria della coppia Antonella Galati e Salvatore Lo Scavo. Nel torneo Silver, la coppia Maria Vallone e Luigi Sinatora. La GD Paddle anticipa che lo stesso evento verrà riproposto a breve presso un'altra location. Quando si parla di beneficenza, ha commentato Guerino Donato, e quando si tratta di dare il proprio contributo alla ricerca ad un tema a me molto vicino, sono orgoglioso e fiero di proporre e riproporre eventi del genere.